Guarda voi che apportate di musica scelto per entrare, tua Liva. Buongiorno. Ben trovato. Buongiorno. È in libreria con i pessimisti, non fanno fortuna. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui con noi. Lo dicevo perché lei ha raccontato più volte che per pagarsi gli studi nel suo laboriosissimo Veneto faceva il PR per le discoteche. Sì, per molti anni. Quindi anche Faye me la ballava. Beh, quella no decisamente, però me la ricordo, me la ricordo. Come ha detto prima lei, ha segnato la nostra generazione. Poi c'è Cold Art che l'ho scelta questa canzone perché comunque ha un primato, oltre ad essere una bella canzone. Dua Liva, quella che abbiamo ascoltato, sì. Sì, Elton John e Dua Liva. Ha un primato che leggevo, è molto interessante questo aspetto, che è una canzone degli anni 70, forse del 71. E nonostante tutti questi anni riesce ancora ad andare al top delle classifiche. Quindi è anche una particolarità, quindi unisce più generazioni. Perché, diciamo, questo è anche un po' il filone del suo libro, perché, diciamo, questo mi corregga se sbaglio, io l'ho letto, ed è una sorta di manifesto politico, una visione dei grandi temi che attanagliano la contemporaneità e l'Italia, partendo però dalle esperienze personali. Perché ha deciso di volerlo scrivere? E questo titolo si riferisce... C'è stato un momento della sua vita in cui i pessimisti non fanno fortuna, ha avuto la prova? Beh, innanzitutto non è un manifesto politico, è una raccolta di riflessioni che io penso che un amministratore ha anche l'obbligo ogni tanto di mettere nero su bianco. Magari potrebbe essere stato titolato Ipsed Ixi, lui l'ha detto. Però la verità è che uso delle frasi che comunemente mi caratterizzano. L'altro libro aveva un titolo particolare, Ragioniamoci Sopra, che ho presentato qui con lei. E questo riporta un'altra frase che io spesso dico, solo i pessimisti non fanno fortuna. Poi abbiamo tagliato il solo, quindi i pessimisti non fanno fortuna. Beh, ho pensato che in un momento nel quale noi abbiamo due cigni neri, Nassim Nicolás Taleb nel Cigno Nero dice quando arriva un cigno nero è un evento imprevedibile che rovescia e toglie ogni stabilità la società e crea un impatto che è poderoso. Noi abbiamo avuto due cigni neri, il Covid e dopo 24 mesi la guerra. Ecco, in un momento come questo forse farebbe la pena anche di uscire dalla narrazione della negatività, che il mondo è finito, che non ci sarà più futuro, soprattutto pensando ai ragazzi e ai giovani. C'è un capitolo dedicato ai giovani. E quindi pensare che magari solo i pessimisti non fanno fortuna. Dopo la pioggia arriva sempre il sereno. Abbiamo delle foto anche di lei bambino, una gliela vorrei far commentare perché vorrei capire se... Mi sembra una foto dove lei si guarda allo specchio, perché vorrei capire se era così anche da bambino. Ma qua siamo alla Marcord. Qui siamo alla Marcord. Ma bemmeno è meraviglioso, col riccioletto. Scusa, ma è bellissimo. Lì avrò avuto neanche un anno, immagino. E peraltro è il figlio di meccanico, di autofficina. Prima di meccanico ha sei anni, giusto? Sì, sì, vedo che ha letto bene. Sono tutto. Ma come al solito del resto. No, vabbè, ci mancherebbe, sto giocando. Quali erano i suoi sogni di bambino? Beh, di fare il veterinario. Io poi mi sono iscritto a veterinaria, perché poi io mi sono laureato in scienza della produzione animale, ma io mi sono iscritto a veterinaria, ho una passione per i cavalli e quindi la mia idea era cavallo, veterinaria, chirurgia dell'arto del cavallo e quindi ho perseguito quel sogno che poi è diventato realtà. Tornando al libro, c'è la citazione di uno sceneggiato, si chiamavano così all'epoca, che era a Radici, anche lì siamo negli anni 70, lo abbiamo visto tutti, la storia di Gunta Kinte, africano, preso schiavo in Africa che è portato a, diciamo, nelle piantagioni di cotone a lavorare per gli americani e lei racconta di come questa sua maestra glielo fece studiare, di come appunto ha avuto un'educazione antirazzista anche grazie al fatto che il film, l'ha sceneggiato, il libro, lo avevate, diciamo, introiettato da bambini. Ecco, perché ha deciso di ripetere cose che sono anche abbastanza ovvie, cioè nella sola idea che esista la possibilità di considerare un uomo superiore a un altro per il colore della pelle, non può essere, insomma, va combattuta e contrastata fin dalle prime forme di educazione. Penso che ci possano essere dei segnali negativi sul tema del razzismo e qualcuno nella sua parte politica o nel suo partito qualche volta ha ecceduto? Ma guardi, mi lasci dire innanzitutto che vorrei sottolineare il modello educativo. Siamo negli anni 1976-77 quando viene appunto mandato in onda a Radici. Quella maestra ebbe un'intuizione unica, no? Dire ai ragazzi, guardatevi il telefono una volta a settimana e poi discussione. Consideri che in quel contesto, in quei paesi del profondo Veneto l'incontro con il diverso, con la persona di colore era pressoché impossibile. Da questo, io penso che sia necessario rinnovare questi principi. È come quando si parla dell'antisemitismo, no? Finiti i campi di concentramento è finito l'antisemitismo. Non è vero. Non è vero ed è giusto parlare ai ragazzi, parlare ai giovani di tutti questi temi che sono l'antisemitismo, che sono il razzismo. Dopodiché ci possono essere casi isolati in politica. Guardi, a destra, a sinistra, ne abbiamo sempre degli esperti. Sì, diciamo sul... Beh, guardi... Diciamo le battaglie contro l'immigrazione, il clandestino... La battaglia contro l'immigrazione... Allora, diciamo così, l'eccesso di toni sul tema dell'immigrazione è, diciamo così, poi uno può giudicare se è un eccesso o no, però appartiene al centro e alla destra. Sì, ma lei mi ha parlato di razzismo, che è un'altra roba. Sì, è vero, però i toni elevati possono far pensare anche a questo. Allora, l'approccio che noi abbiamo rispetto all'immigrazione, il fatto che ci debba essere legalità, che si debba aiutare senza sé, senza mai, chi scappa dalla morte, dalla fame, questo è un tema, è dogmatico. Dopodiché abbiamo anche il diritto di dire che l'accoglienza ha dei limiti, perché se tu dai disponibilità di casa tua per ospitare delle persone in difficoltà, a un certo punto, per quanto in difficoltà siano, tu dici, non posso più ospitarle. Mi lasci dire un dato, perché la sua è anche una trasmissione di intrattenimento e informazione, come lei sa ben fare. 90.000 migranti arrivati quest'anno, rotta mediterranea, 20.000 rotta balcanica, 150.000 profughi ucraini. Nessuno ci ha dato una mano, nel senso che l'Europa è totalmente latitante e il dibattito che è in corso ne dà una dimostrazione. Per l'Europa Lampedusa è il confine d'Italia, per noi è il confine europeo. Tutto qua. Se l'Europa ci desse una mano, noi riusciremo ad essere molto più rispettosi della dignità umana rispetto all'accoglienza. Quindi le politiche del ministro Piantedosi lei le condivide in toto? Ma guardi, il ministro applica la legge, il ministro sta applicando la legge, quindi le leggi vanno applicate. Dopodiché noi siamo una comunità che è assolutamente ospitale e conosce la solidarietà e questo dobbiamo dire fino in fondo. Guardi, il mio Veneto, profondo nord come lo definisce qualcuno dal profondo sud, ecco nel mio Veneto... Siamo tutti profondi, lo spero, no? No, diciamo che siamo tutti al sud di qualcuno, mettiamola così. Ecco nel mio Veneto, il mio Veneto è riconosciuto come il modello di integrazione. Noi abbiamo 600 mila migranti, sono più o meno l'11% della popolazione che si sono integrati, hanno un progetto di vita ed hanno assolutamente avuto tutte le risposte che desideravano dal pubblico. Ovvio che oltre un certo limite poi non ci riesce più a andare. C'è una persona veneta che noi prendiamo sempre a modello di ottimismo e di forza e di volontà e di voglia di vivere. È veramente un modello per tutti noi che le manda un messaggio a un suo cittadino veneto, Sammi Basso, cittadino italiano, cittadino veneto. Sammi, ho veramente trovato. È il nostro ospite spesso. Ciao Luca, mi fa sempre un sacco di piacere vederti così attivo, come se fosse una novità tra l'altro. Comunque mi fa molto piacere anche vederti in compagnia di Serena, che hai saluto tanto. E solo i pessimisti non fanno fortuna. Questa frase te l'ho sentita dire tantissime volte e sono felice che tu ne abbia fatto anche un libro. Sono perfettamente d'accordo. È per quello che cerco di essere ottimista e so che tu fai la stessa cosa. Cos'altro dirti? Credo sia veramente la prima volta che ti parlo in italiano. Dunque per tornare un po' alla vostra lingua madre, sai anche ancora che se cattassimo Paus Pris, dunque ti aspetto e mi raccomando, duri i banchi sempre. Ciao Luca. Grande Sammi, ti vogliamo bene. È l'emblema dell'ottimismo. Sì, è straordinario. Allora, in proposito dei diritti civili, c'è anche un capitolo legato appunto a diritti civili, all'omosessualità. Lei scrive la patologia è l'omofobia, non l'omosessualità. Parla anche di l'asprimento delle pene. Secondo lei sarebbe necessaria una legge contro l'omofobia? Lasciamo un perdere, non è un giudizio su quelle promosse che sono state fatte finora. Ma guardi, io penso che è necessaria l'attenzione. Se l'attenzione poi deve tradursi anche in provvedimenti legislativi, ben venga. Di certo non quello che ci è stato proposto fino ad ora, perché poi la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro e viceversa. Ci vuole, diciamo, buon senso anche nell'applicare le leggi e nel fare le leggi. Io dico però che dovremmo superare anche questa barriera che per alcuni è ancora invalicabile, magari pochi casi isolati, e pensare che superato questo dibattito ci dovremmo occupare poi di altre questioni che riguardano magari i giovani, che riguardano il loro futuro. E quindi, come ho detto in quel capitolo, parlando delle parità di genere e in generale di questi temi, dico, guardate che diamo per assunto che l'omofobia è la patologia e non l'omosessualità. E da qui partiamo. Domanda politica. Ha visto l'incontro da Palazzo Chigi fra Meloni e Calenda. Lei, uno come Calenda, lo vedrebbe bene in un governo di centrodestra? Ma guardi, questo paese è fatto di tormentoni. Ogni due o tre giorni c'è un tormentone, giustamente per... Ma è successo ieri. Sì, però per rinnovare le notizie. Io so che c'è una coalizione che governa questo paese che ha avuto democraticamente un consenso dei cittadini. Mi fermo qui, nel senso che poi io mi occupo del Veneto, non mi occupo di politica nazionale, non indico la via. E in Veneto ho molto da fare, ciò le Olimpiadi. Sì, sì, ma io le ho fatto solo una domanda, se non mi devo rispondere. No, le ho risposto. È un tormentone. È un tormentone, va bene, ok. Non un tormento.